Tensione ai funerali di Silvio Berlusconi poco prima che arrivasse il ferretro si sono registrati attimi di tensione una donna infatti ha organizzato una forma di protesta pacifica si è presentata in piazza indossando una maglietta con scritto io non sono in lutto la manifestante ha spiegato sappiamo tutti cosa c'è stato dietro a lui e come ha fatto le sue prime fortune è un pregiudicato la signora ha spiegato di aver deciso di organizzare questo gesto per i suoi figli hanno deciso per il funerale di stato e per il lutto nazionale non riservati a chi ha dato la vita per la legalità